ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale consueto appuntamento post diretta dal sito per linee fimo in co oggi infatti c'è stata la diretta eccezionalmente di giovedì in quanto io domani ho un impegno quindi ora giro questo video per farvi vedere i chittini che vedete qui davanti che sono stati presentati durante la diretta e ovviamente aspetterò a rendere visibile il video dal momento in cui saranno online le inserzioni dei chittini generalmente come al solito insomma li troverete entro domenica e quindi ora spacchetto tutto quanto e vi mostro il contenuto questi chittini analisa ha deciso di proporli come anteprima del natale e praticamente tutti e quattro che avete visto sono quattro sono abbinati a una delle novità del sito una novità veramente grandiosa ovvero ora ve li mostro subito questi perni bellissimi sono disponibili in tante colorazioni abbiamo visto appunto le prime quattro che sono tutte protagoniste di questi chittini e questo ci fa intendere che sicuramente in vista del natale saranno visibili altre colorazioni di questi bellissimi perni che sono con le basi in acciaio dorato e hanno praticamente questo centrale che si abbina perfettamente al colore delle perle che solitamente usiamo delle perle delle perline che solitamente usiamo io li trovo veramente bellissimi parto ovviamente dal verde che sapete il mio colore preferito ma vedrete quanto sono belli anche tutti quanti gli altri quindi la coppia di perni apre questo chittino ovviamente come di consueto ci sono anche i relativi gommini altra cosa meravigliosa di questo primo chittino sono questi rivoli spettacolari rivoli da 14 mm con questo effetto ice guardate che meraviglia sono stati presentati durante la diretta della settimana scorsa questi sono stati messi in vendita in numero limitato e sono andati letteralmente a ruba quindi adesso ha deciso di inserire questa colorazione che è stata fra le più gettonate all'interno di questo chittino quindi questa coppia di rivoli meravigliosi dopo di che abbiamo le rocaille le rocaille della miuki anche in questo caso sono tra le novità recenti ovvero queste colorazioni della finitura glaze che sono arrivate anche in altri colori rispetto a quelli che avevamo già visto il mese scorso qualche settimana fa allora abbiamo cinque grammi per quanto riguarda le 15 0 10 grammi di 11 0 questa colorazione è bellissima e 10 grammi di 80 fantastico veramente procediamo con le perle eccole qua questa colorazione magnifica perle da 4 e perle da 6 ovviamente come di consueto le vostre bustine riporteranno tutto quanto la colorazione la quantità in modo che se vorrete in futuro riprendere questo articolo saprete identificarlo ecco in questo caso invece siccome sono bustine che ha preso direttamente dalla disponibilità nel magazzino eccole qua abbiamo a cinque grammi di gem duo la colorazione la percote il guardate che spettacolo è uguale cinque grammi di super luogo della stessa colorazione per il cult il bene questo è il primo dei quattro chittini ora sposto tutte le bustine procediamo con il secondo secondo chittino guardate che meraviglia parto sempre ovviamente dai protagonisti quelli che hanno dato l'ispirazione ad analisa per questi chittini ovvero i perni guardate che meraviglia anche in questa colorazione belli belli ovviamente abbiamo i relativi gommini procediamo con le rocaille eccole qua guardate che colorazione stupenda queste sono le 15 0 5 grammi abbiamo poi 10 grammi di 11 0 durante la diretta analisa era sicura di avere preso anche le 8 0 ma non le trovava dopo la diretta le ha trovate come spesso accade insomma dalla fretta magari sfuggono le cose ma era sua intenzione appunto se le aveva metterle e di conseguenza questo kit non lo vedete ovviamente in video perché non l'ho disponibile praticamente le ha trovate subito dopo che sono venuta via dal magazzino di conseguenza non le ho potute prendere con me comunque della stessa colorazione meravigliosa trovate come avete visto anche nel primo kit il tris completo delle tre misure miuki quindi 5 grammi di 15 0 10 grammi di 11 0 e 10 grammi anche di rocaille 8 0 in questa meravigliosa colorazione sempre nella finitura glaze procediamo con le perle da in questo caso sono tre misure quindi perle da 4 6 e 8 guardate che meraviglia abbiamo poi cinque grammi di super duo e infine abbiamo una confezione adesso non so quante sono dovrebbe essere una trentina di pezzi di drop duo eccolo qua questo è quindi il secondo chittino ora sposto tutto quanto e procediamo con il terzo terzo chittino partiamo ovviamente sempre dai perni protagonisti di questi kit guardate che meraviglia bellissimo anche questo colore eccoli qua abbiamo ovviamente come di consueto di relativi gommini abbiamo poi una coppia di rivoli guardate che meraviglia coppia di rivoli da 14 mm in cristallo austriaco questa è la colorazione bellissima la cappuccino del light che riconoscerete sicuramente fantastico veramente stupendo sono tutti e tre bellissimi questi chittini abbiamo poi le rocaille sempre della finitura glaze sempre tra i nuovi arrivi nuovi colori arrivati sul sito eccoli qua guardate le tre bustine tre misure come abbiamo visto nei primi due abbiamo le 15 0 5 grammi 11 0 10 grammi e 80 10 grammi meraviglia abbiamo poi le perle in questo caso abbiamo le due misure perle da 3 e perle da 4 belle belle procediamo con 5 grammi di super duo non vedo l'ora veramente di utilizzare queste combinazioni colore sono bellissime e 5 grammi di gem duo bene questo è il terzo chittino ora passo subito a mostrarvi il quarto quarto e ultimo chittino anteprima di natale adesso non so se lo chiama se li chiamerà anteprima del natale o aperitivo di natale comunque sono tutti meravigliosi e ci lasciano comunque capire cose meravigliose perché questi perni sono qualcosa di spettacolare e sicuramente siete tutte curiosissime di vedere quali saranno i prossimi colori proposti questa è la colorazione che apre questo quarto chittino guardate che spettacolo dovrebbe essere se non ricordo male richiama le colorazioni delle perline passa il petrol abbiamo poi una coppia di rivoli che fanno parte sempre di quelli che abbiamo presentato la settimana scorsa guardate che spettacolo che luce rivoli da 14 mm ovviamente abbiamo sempre i gommini per quanto riguarda i perni abbiamo poi le rocaille locali yuki sempre la finitura glaze questa è la meravigliosa colorazione guardate che spettacolo abbiamo in questo caso è giusto ci sono due misure perché le 15 0 non erano disponibili dal fornitore quindi abbiamo 10 grammi di rocaille 110 10 grammi di rocaille 80 abbiamo poi 5 grammi di super duo la colorazione dovrebbe essere la pasta il petrole che richiama come vedete perfettamente il i perni 5 grammi anche di gem duo stessa colorazione e per finire in questo chittino abbiamo queste bellissime pesli 5 grammi di questo colore che dovrebbe essere il blu rembrandt comunque la finitura è la rembrandt la riconosco la ricitura esatta la vedrete appunto nelle vostre bustine e come di consueto anche sotto la relativa a inserzione ci sono tutti quanti i nomi delle perline le gramature il numero dei pezzi bene questo è quindi l'ultimo dei quattro chittini io spero di avere fatto cosa gradita farveli vedere più da vicino qui sul canale vi lascerò come sempre i link di tutti e quattro qui sotto nell'info box il video sarà online in contemporanea l'uscita dei chittini sul sito per in effimo in co quindi io vi ringrazio per la visione ringrazio come sempre analisa per la sua ospitalità durante le dirette e noi ci vediamo alla prossima ciao